Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel canale Arte Allegra. Oggi per la playlist Occhio alle calorie prepariamo un secondo con il pesce. Il mio merluzzo con salsa di pomodoro e olive nere. Ma prima la sigla. Gli ingredienti per la mia ricetta sono 500 g di filetti di merluzzo. Vanno bene anche quelli surgelati. Due cipollotti novelli, un cucchiaio di olio di oliva, uno spicchio d'aglio, una manciata di prezzemolo tritato, olive nere, un cucchiaino di zucchero, sale, pepe, 300 g circa di passata di pomodoro e origano secco. In un tegame mettiamo l'aglio, il prezzemolo e i cipollotti e il cucchiaio d'olio e facciamoli soffriggerli leggermente. Aggiungiamo un poco d'acqua e facciamo cuocere la cipolla. Una volta che la cipolla è ammorbidita aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo, mettiamo una piccola manciata di zucchero e mescoliamo. Aggiungiamo inoltre l'origano, le olive, un pizzico di pepe e il pesce. Copriamo il tutto e facciamo cucinare per almeno 12-15 minuti a fiamma bassa. Eventualmente se si dovesse asciugare troppo aggiungiamo pochissima acqua. Ed ecco il nostro piatto pronto per essere gustato. Accompagnatelo con due fettine di pane casereccio. Con questa ricetta io vi saluto. Come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video della playlist Occhio alle calorie per chi ama mangiare con gusto stando attento alle calorie. Ciao e una buona giornata a tutti! Ciao! 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 Ciao!